Ed eccoci qui a Le Cabane, un paesino del sud della Francia, Pirenei oltre Andorra. Paesino microscopico ma che ha la stazione di treno ed è molto vicino ad Andorra, forse per questo ha dei prezzi da cortina pur essendo un buco. Il suo vantaggio è che è vicino alle piste di sci di fondo nel Pla de Beille, quassù, che è a 1700 metri circa. Sono riuscito solo adesso ad andare a camminare, sono alle 8 di sera. Siamo partiti prestissimo stamattina andando all'Ikea. Buon Dio, oggi è giornata lunghissima che inizierà col riportare all'Ikea un materasso. Siamo proprio top. Viva il sabato! Ci vediamo domani con un po' di neve. Ciao ciao! Oggi il 27esimo giorno della Brut Challenge, manca sempre meno alla fine. E dai, oggi dopo una settimana in cui i postumi dell'influenza c'erano ancora, torno anche a fare più che una camminata, anche qualche corsetta. Dai, se si possono essere salvo a casa, ci vediamo domani. Ciao!